Finanziamenti che risalgono al 2019 e che non sono mai stati impegnati. Per questo motivo oggi la regione molise chiede alla provincia di Serna la restituzione di ben 374 mila euro destinati a progetti nell'ambito dei cosiddetti viaggi della cultura. Palazzo Vitale batte cassa con la nuova amministrazione targata Daniele Saia, la quale valuta anche la strada di un ricorso al TAR per evitare di dover sborsare questi soldi. La decisione dello scorso 25 maggio, con una delibera, la regione molise chiede la restituzione dei 374 mila euro circa di fondi anticipati per la realizzazione di quattro sottoprogetti, il museo dei costumi del molise, l'osservatore astronomico Leopoldo del Re, il centro europeo di ricerche preistoriche e formazione e promozione dell'offerta turistica. Lo scorso anno l'ente di Via Berta con l'allora presidente Alfredo Ricci aveva chiesto delle prologhe al progetto ma i tempi erano ormai scaduti perché l'avviso di revoca da parte della regione risaliva al 2022. Adesso la patata bollente nelle mani del presidente Saia. Questo provvedimento già doveva essere fatto in precedenza, adesso la dirigente Ofiero ce l'ha inviato e quindi stiamo vedendo un attimo come fare se possiamo recuperare questi fondi. La provincia non ha più competenze in materia turistica, questo era un progetto elaborato dal consigliere Carrino già dall'epoca frattura, quindi sono passati molti anni. Ripeto, adesso stiamo interloquendo con la regione proprio per vedere cosa si può fare per mantenere in atto tutti questi fondi e chiaramente destinarli per le progettualità per i quali erano destinati. Credo che sarà molto complicata perché essendo degli FSC quindi comunitari probabilmente torneranno all'origine. Se anche come si sta discutendo a livello nazionale si vuole ridare ruolo alle province, oggi partendo da questo punto si può interloquire con la regione proprio per ridare le deleghe in materia turistica e culturale alle province come anche altre province italiane già hanno fatto.